Voglia, entusiasmo e positività. Il nuovo direttore sportivo della Fidelisandria, Mariano Fernandez, si presenta così alla Piazza Azzurra. Diverse per lui le esperienze da dirigente sportivo tra C e D, Matera, Cerignola, Milano City, Virtus, Francavilla e Viterbese. Adesso per l'argentino classe 1978 c'è una nuova scommessa da vincere. Ma con il spirito che ho avuto sempre e in ogni sfida che ho accettato, con voglia, con tanto entusiasmo, con positività che è quello che c'è bisogno in queste situazioni. Quindi sono contento veramente di essere arrivato qua ad Andrea per me e per la mia crescita di carriera. Imperativo ragionare di partita in partita, ogni punto sarà fondamentale. Noi non dobbiamo sicuramente andare oltre e sarà un campionato molto equilibrato e quindi ogni partita è determinante, ogni punto è determinante. Quindi noi dobbiamo ragionare senza andare oltre, mancano tanti punti. La prossima sfida interna dei fedeliciani è contro Latina, servirà determinazione. Non vado a guardare molto queste cose, noi conta perché è una partita, come ho detto prima, in casa, l'ultima di quest'anno. Quindi davanti ai nostri tifosi ci sono dei punti importanti per la nostra classifica, però quello non deve portarci nervosismo, frenesia. Buona l'intesa iniziale con mister Dudu. Con lui già ci conoscevamo da un po' di tempo, chiaramente parliamo quotidianamente sempre, ci confrontiamo e lui sicuramente sta facendo un ottimo lavoro. Siamo consapevoli che non basta quello che abbiamo fatto fino a oggi, quindi dobbiamo portare questa squadra sempre in crescita. Grazie a tutti.